3 aprile 2021, 944 anni dopo il 3 aprile del 1077, una data che ha segnato profondamente l'identità friulana e la storia del Friuli. Il 3 aprile del 1077, l'imperatore del Sacri Romani Imperi, in 3 quarti, ha consacrato i patriarcati di Aquilea, il patriarca diventa un Stato, ma non si può arrivare a tutto questo. Quello che avete visto era un estratto del documentario Friuli, viacce testorie, diretto dal regista Massimo Garlatti Costa, interpretato da Loris Vescovo, ci porta indietro appunto a questo momento fondamentale per la storia del Friuli, momento dal quale partiamo e iniziamo a raccontarlo da un altro estratto, una trasmissione andata in onda su Telefriuli, curata dall'Arlef, viacce in Friuli. Allora sentiamo le parole di Chiara Donada, perché questa data è così importante. A Pavia, l'imperador Indri IV al fissava la nascita dal Stato Patriarchale Furlan, tant che premi per lealtà dal Patriarche Siart, che di lunghe delle guerre civili contro l'imperador, si è remettuta da sua bande. L'istituzione del Patriarchale ha avuto il gran merito di metidoglie fin al secolo XV, il Friuli e tanti altri territori senza un solo organismo statuale. Rivante, perché epoche, a formis di organizzazione civile, unevore avanzadis. Nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, con il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, perché oggi, Sindaco, comunque, nonostante la pandemia, si è voluto celebrare questo 3 di aprile, i festeggiamenti sono rimandati a settembre, in concomitanza con Friuli Doc. Oggi che significato ha festeggiare il 3 aprile, inteso come oggi 2021, a 944 anni di distanza? Oggi è la festa dei Friulani, la festa del Friuli, la festa di chi vive in questo territorio, perché ricordiamo un momento storico molto importante in cui il Friuli fu uno stato, uno stato nel Medioevo che durò per circa più di 300 anni e che manifestò con forza l'identità di un popolo che continua ancora a sentirsi popolo, perché i Friulani si sentono ancora un popolo, si sentono appartenenti a una comunità particolare all'interno dell'Italia, all'interno dell'Europa, però con la loro identità, con la loro lingua, con la loro cultura. E anche in questi momenti difficili, come è la pandemia che tutti dobbiamo affrontare, ci sentiamo più uniti, più particolari, più solidali. Sono tutte cose che nascono un po' da quella che è la nostra storia, una storia purtroppo anche con tante disgrazie, con tanti avvenimenti negativi, ma che però ha forgiato un popolo che, ripeto, si sente ancora forte e si sente protagonista soprattutto a casa sua, nel nostro Friuli e un po' anche in tutto il mondo, perché i Friulani si fanno ben rispettare, soprattutto ben amare, quando vanno a lavorare o vivono in tanti paesi del mondo. L'identità Friulana è fatta di tante componenti, la storia, oggi ricordare questa data vuol dire conoscere un passaggio fondamentale della nostra storia, la lingua. Sì, la lingua è la roba più importante, perché un popolo, si sentono un popolo, si sentono una lingua particolare, e non vengono queste lingue, una lingua antica, che nasce da una lingua neolatina, quindi è nasce di Aquilè, è nasce di un insieme di Contas, Conta e Popoli, che hanno fatto la lingua furlane, la lingua di un popolo che è anche protagonista dal 2021 in storia dell'umanità, una lingua tutelata, un popolo anche tutelato, perché non sparissi e che mantengono la sua identità. E allora, Sindaco, grazie, buona festa al Friuli, buon compleanno, Friuli, buone fieste delle patrie del Friuli e appuntamento a settembre. Appuntamento a settembre, perché abbiamo rinviato le celebrazioni con la presenza delle persone, della gente, del popolo friulano, quindi a settembre ci rivediamo ancora qui a Udine, capital dal Friuli. E noi ora ci vediamo un altro spezzone della trasmissione Viaggi in Friuli, realizzata da Telefriuli con Arlef, dove William Cisilino approfondisce ancora di più, insomma, quel momento storico, come si arrivò quel 3 aprile del 1077. Il 3 di avril 1077 è la tappa finale di un percorso che l'è tagliato tra i secchi prime. e chissà perché, a manco da ete di Carli il Grant, gli imperatori hanno tagliato a fare donazioni alla Iglesia d'Aquilea, al Patriarche, donazioni di territori, di paese e via in davanti, e da queste maniere hanno contribuito a feudalizzare il Patriarcheat, venne a stare dai territori dove aveva il suo domini. Le anche di giuntà che gli imperatori stavano ben chiesti, di una parte perché il Patriarcheat era una realtà, una voce credibile, sia a livello locale, sia a livello anche internazionale. E quindi, a lei di ricordare che il Patriarcheat, che anche al Murive, non aveva il successore, per la quale l'imperatore dopo il poteve nominare a cui che il aveva bene a lui. Ma quale è ieri l'estensione territoriale dal Stato Patriarcheat? Beh, il Stato Patriarcheat, che non le confondono con la diocese di Aquilea, con la metropoli, il suo reddito di Aquilea, il Stato, al Chiappave Dentri, il Friul, come che lo conoscevano in UE, venne a stare le 6 province di Gurizze, Pordenone e Udine, più il mandamento di Puarte. E dopo, al Chiappave Dentri, anche tutti i Chiadovri e l'Istria. Anche sale di Dì, che tra la parte dell'Istria, il domini non è stato mai dal tutto tranquillo. Di nuovo dal Castello di Udine, con Marcus Maormaier, Presidente dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana, anche con il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, sottolineavamo il valore della lingua, della storia, per l'identità friulana. Sì, buon Dì a tutti i telespettatori, e soprattutto buona fiesta della Patria del Friul. È una giornata di fiesta, ma c'è da essi un momento di riflessione, l'importanza del Fevela del Furlan, ma soprattutto di sentire i Furlan. E in questo, diciamo che venendo a chi da Volesion Darzing, gli ha giudato, con un plasè, tanti bandieri fuori dal Ciasis, proprio la dimostrazione di se calè il sentimento di essi dentro i Furlan, se fanno gli odianti fuori. E in questo, diciamo che stiamo lavorando, pensiamo come comuns, proprio per mettersi i dongi, per farci crescere, questa Assemblea della Comunità Linguistica Furlana, che è un insieme di tutti i comuns, che si fa vedere a Furlana. Sono 172 i comuns che potrebbero arrivare a questo risultato, e siamo arrivati a 130, all'entrata in Spilomberg da qualche settimana, e in più vengono i comuns dal Veneto, alle San Michele e al Tilimento. Proprio la dimostrazione di se calvole di essi, senti, diciamo, Furlans. Questo è importante, soprattutto per sé, per sé che per noi altri sia l'occasione di giustificare l'esistenza della nostra stessa regione come autonomia speciale, per sé che noi sentiamo la questione del confine con l'Oriente, con la guerra fredda, e vengono a capire che non esistono come autonomia speciale, per sé che vengono tre popoli, che avevano tre lingue differenti, e vengono da questa dongia, e per questa dongia vengono da creare le istituzioni. E l'Assemblea della Comunità Linguistica Furlana ha a chi sta funzionando. L'unicità e il pluralismo, insomma, insieme, l'identità e il pluralismo come valori fondanti. Lei ha lanciato anche una proposta, in chiusura al suo intervento, per ricordare un'altra data importante. Sì, tanti vorrei dire che stiamo lottando per contrastare l'omologazione, perché che c'è il rischio. Cioè, se è un'Europa dei popoli, i popoli andano a essere riconosciuti, tutelati e fanno cresci. Per quanto riguarda la proposta che è fatta, sicuramente, è che non vengono una fiesta, che è che dalla patria del Friul, ma sarebbe giusto come Nazione di Venenza un'altra, che è che dal Beato Bertrando. E quindi, se stiamo facendo, c'è la seduzione a San Sorda, che va da chi è a Udin, che sono le dote testimonianze di questo importante personaggio, che ha rappresentato un modo differente, che fa l'amministratore, per fare un altro momento di riflessione sul valore dei Furlanos. Ha parlato dell'importanza di quanto la bandiera stia tornando, insomma, a comparire anche fuori dalle nostre case e proprio alla bandiera si collega il video che vediamo adesso. Andi! Mandi, papà, grazie! Mandi, stelle! 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 In ogni band del mond, la Nestre Aquile non stai insi in peridoglie. Mandi, stelle! davvero tutto il mondo, non solo la regione, questo video che Arlef ha voluto proprio fare come regalo al Friuli, vuol dire buon compleanno Friuli in tutto il mondo, con un successo straordinario. Sì, buon compleanno Friuli, 944 anni di storia, perché c'è un momento importante per ricordarlo proprio perché vi ho detto che con 1.200.000 visualizzazioni il video è stato preseato e all'estate, insomma, è stato preseato a Torpa al mondo, a Torpa ad oggi anche i Fogolari Friuli, ringrazio l'ente Friuli al mondo per venire a dare la possibilità di mandarlo a Torpa anche con la loro mailing list, ma al di là di che, io ti dico che i Friuli proprio si sono da di fare per poter mandarlo ai loro conosciuti, che è un grande segno di identità, di qualsiasi di banda che si chiede, che venga questa grande identità, questo grande attaccamento per una bandiera che è una delle più antiche bandiere del mondo. Passa dai simboli di identità friulana, passa dalla lingua, insomma, e qui c'è il vostro operato come Arle, fa anche a partire dai più piccoli, perché è da lì che si comincia a lavorare. Sì, è vero, noi stiamo facendo un gran lavoro sulle scuole, io voglio ricordare che dottacare il lavoro che si fa a Ponte non può sostituire la trasmissione intergenerazionale, sicché come Arle fa agenzia regionale per la lingua furlana, abbiamo fatto ben già una campagna, già in passare, è una campagna informativa lì che sensibilizzava a Ponte Furlangs ad operare l'infamea o a trasmetterlo in maniera intergenerazionale. Al dipende no, al diceva questa campagna, in Fies proprio tal dipende singolarmente di ogni furlana, di partire in davanti la lingua, dopo è importante chiaramente di chi è la scuola, non ci dà un gran supporto, però assolutamente la situazione si chiamò di migliorare. Grazie allora al presidente di Arle, Ros Cisilino, che augurio fa alla patria dal Friul in questa giornata e ai Friulani? Io ho detto che si indogna ai mille anni di storia e direi che l'augurio alle di fa in chiamò mille e mille anni in davanti. E noi ci separiamo per un istante di pubblicità e torniamo tra poco. 3 aprile 2021, Fies del Patria e dal Friul, vi dedichiamo questo speciale appunto in occasione della festa del Friuli con un passaggio importante ancora sulla storia. Abbiamo detto 3 aprile 1077, questo momento fondamentale ci aiuta a capirlo ancora di più ancora una volta il documentario Friul, vi accette storie di Massimo Garlatti Costa. Ne vediamo ancora un estratto. Con le continue s'elargizioni dell'imperatore Sottons, i patriarchi si diventano i più potenti proprietari del Friul. In tal 1079 al venne nomenate tantche patriarchi Popon. Popon ha sfruttato le posizioni strategiche del Friul e ha mantenuto una politica fedele all'imperatore. Questa politica è filo imperiale e partireà all'eglese furlane una sioretà che prima non si era mai veduta. In tal 1077 l'imperatore Indri Quart ha si chiate affrontare la ribellione dei principi todeschi che blocchino le vie per gli ermani. In questo momento un'evore delicato si chiara e dà una mano all'imperatore che per ricognosci ha deciso di dare i diritti feudali in mano al patriarca. Questa vuol dire che le piccole patrie diventano un Stato. La bandiera è protagonista oltre alla storia che stiamo raccontando attraverso questi spezzoni del documentario in questa giornata Assessore Zilli, Assessore regionale alle finanze. Barbara Zilli l'ha appesa fuori di casa oggi la bandiera perché ha voluto proprio portarla qui e che per questo intervento. Sì sì è appesa sulle finestre in piazza Gemona. Io ci tengo particolarmente, ci tengo ogni anno da sempre e credo che quest'anno ancora di più sia un segno di identità e di comunità per tutti noi. Ecco appunto anche il sindaco Fontanini in un passaggio insomma sottolineava come forse proprio in quest'anno così difficile che è passato sia in un certo senso ancora più servito sentirsi parte di una comunità, sentirsi parte di un'identità che è ancora forte chiedo quella degli esseri fiulani. Lo è, lo è perché i nostri padri ce la tramandano ma lo è anche nei giovani. Io sento grande appartenenza al friulano, al friuli, all'udinese, a tutti i nostri simboli da parte dei giovani di oggi e questo è un invito ad andare avanti. In un momento difficile come questo noi troviamo la forza nelle sventure che abbiamo avuto come popolo per rimboccarci le maniche come sempre e trovare ancora l'infa per guardare con speranza al futuro. A 944 anni di distanza dunque essere e sentirsi fiulani passa dai simboli come per esempio la bandiera, passa dalla lingua e ne abbiamo parlato in questo appuntamento. Passa politicamente, amministrativamente parlando anche da autonomia, tutela, parola insomma di questo genere, di questa importanza. La regione insomma con anche l'assessorato alle autonomie locali difende e tutela questi valori. Sì, con l'assessorato alle autonomie locali che ringrazio ma anche come giunta regionale con il presidente e con il mio piccolo ruolo perché di fatto la battaglia per la difesa della nostra autonomia che trova suo fondamento nella nostra lingua e nel friulano in particolare è una battaglia che deve vederci ovviamente uniti per cercare di ottenere non privilegi ma maggiore autonomia, maggiore sussidiarietà e maggiori poteri e competenze da Roma. E questa è una battaglia cruciale che stiamo conducendo continuamente per la revisione dei patti finanziari con il governo centrale e per l'attribuzione di nuove competenze. Concretamente, grazie all'assessore Zia, le abbiamo raccontato insomma un aspetto importantissimo in più di questo essere friulani oggi proprio calato nell'oggi. Grazie per averci portato la bandiera, è stato insomma il patriarcato fu particolare e innovativo nel fatto di avere un parlamento, chiaramente era insomma qualcosa di diverso da quello che conosciamo oggi, ma fu un inizio anche in quel senso e lo vediamo in questo altro estratto del documentario, Friul vi ha ste storie. Il potere del patriarca, quasi come una monarchia istituzionale, aveva due istituzioni sulle vore importanti spostate fuorla, che dal Parlamento e che dalle comunità. Il Parlamento era un'assemblea consultiva che aveva dentro elementi dal clero, dai nobi e dai comuni. Vi è per questa attività, il Parlamento ha dovuto fu un codice di letto, un lavoro importante, il codice dalle costituzioni, da patria e dal Friul. E torniamo nel Salone del Parlamento, proprio al Castello di Udine, siamo in compagnia del Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zannin, anche con lui per fare delle considerazioni, delle riflessioni in questa Fiesta dei Patrii del Friul, che è una festa ma è appunto anche un'occasione per riflettere, per ricordare la storia, per interrogarci sul presente, progettare il futuro, identità e pluralismo, che sono anche due parole chiave poi all'interno del Consiglio regionale che lei rappresenta. Certo, il Consiglio regionale è la sintesi della comunità regionale. All'interno della sintesi io sono orgoglioso di rappresentare la parte friulana e quindi sicuramente orgoglioso di questa festa che, come è stato detto, deve mettere insieme la tradizione e la storia, una grande tradizione, una grande storia, una grande identità che non è solo tra le genti che vivono oggi il Friuli, ma con tutti i friulani che sono andati nel corso degli ultimi anni in giro per il mondo e che sentono profondamente questa vicinanza. Rispetto a questo patrimonio, che è un patrimonio di valori, bisogna anche costruire la capacità di stare insieme con gli altri e quindi essere parte attiva, parte fondamentale come Friuli anche dello sviluppo del progresso dell'intera regione, quindi nella collaborazione necessaria in questa regione duale con le genti della Venezia Giulia e quindi creare in una prospettiva di una regione di 1.200.000 abitanti le condizioni per cui il Friuli abbia fino in fondo anche le sue opportunità, che forse in questi ultimi tempi sono meno visibili rispetto al grande dinamismo della zona di Pordenone o della zona di Trieste, quindi credo che da lì però c'è la forza per l'intera regione, quindi senza un grande Friuli, senza un Friuli dinamico non c'è neanche una regione che possa guardare con tranquillità al futuro. Che augurio fa allora il Friuli nel giorno della Fiesta delle Patrie? Diciamo che l'augurio è di, partendo dalle proprie radici e dai propri valori, prendere in mano il proprio destino come Friuli all'interno di questa regione e investire molto sia nella relazione con i fratelli che stanno fuori dal Friuli ma anche come prospettiva per costruire un futuro dopo la pandemia che possa basarsi su quei valori, possa rilanciare la crescita economica, la crescita sociale e possa riattivare l'ascensore sociale che consenta ai figli del Friuli del domani di essere in qualche modo meglio dei genitori e quindi è un progresso che ci porti tutti verso il futuro, un futuro migliore. Anche in un momento così difficile. Specialmente in un momento così difficile. Grazie allora al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin con il quale concludiamo questo appuntamento che conclude anche per voi telespettatori su Telefriuli la giornata di questo 3 aprile 2021, l'avete vissuta con le bandiere che avete affisso fuori dalle vostre case, speriamo insomma che anche il contributo che abbiamo dato questa sera tra storia e riflessioni sul presente abbia contribuito a sentirla ancora di più. Buine fieste e patria dal Friuli a Ducce e buine serate. Buine serate. Grazie a tutti.